E' un canto che arriva dal 1800 ed è il canto di un venditore di focacce. E questo signore parte da, pensate, parte da Maligera, si chiamava allora, va a piedi fino a Fusina dove c'è il Brenta, il fiume, e poi attraversa tutta la laguna in barca a Reni. C'è il donso, c'è la Marghera, arrange la Fusina a quello che prende a separare il mare e ci parla un giro della laguna. Ecco, ed è un giro in barca a Reni. Ed è un giro che è ripetibile anche oggi.